In considerazione della fase così delicata della vita amministrativa che sta vivendo Scili e al fine di continuare a onorare il programma elettorale a suo tempo sottoscritto con l'organizzazione e per la città in maniera assolutamente responsabile approveremo questa sera i punti all'ordine del giorno relativi alle nuove localizzazioni. Il tutto per favorire, continuare a favorire la realizzazione di opere che sono già per atto inserite nel Quist e che abbiamo votato nel programma triennale delle opere pubbliche a suo tempo. Il tutto dicevo per favorire e promuovere lo sviluppo della città. Per quanto riguarda invece delle decisioni unilaterali assunte dal capo dell'amministrazione, dal sindaco Giovanni 25, cioè la decisione di volere spalmare le tecniche rivestite dall'ex assessore Sparacino, i sottoscritti consiglieri comunali afferenti al gruppo di Cile e Cile e Tu e in rappresentazione anche della lista termina. Ce ne serviamo di valutare insieme al partito qualsiasi determinazione conseguenza. Io devo portare davanti, questi sono questi 16-17, non devo inventare una gente, cerchiamo di concretizzare il programma, con lo cancellaggio, con lo spostituzione, e bene che si sa, i consiglieri, credo che siano coscienti, perché almeno di noi, a mondo, quando ci siamo a presentare questo palaperturo, abbiamo fatto un discorso per prendere i bordi, per l'interesse del territorio, per l'interesse di questo, per l'interesse del territorio, e allora, questo è il principio. Io sarò ancora su questa finezione, ci sarò ficando un po' così, chi mi ha, chi mi ha questo? Non mi sa, è altamente forte, non basta, non mi sa, io ho l'arpello, ho l'invito che faccia tutti, non lo volevo rimandare, questo è considerato un'occasione, io dove lo mando, tira a parte. Io stasera mi sembra mortificato per l'ultima parte della dichiarazione del capogruppo dell'Udc, qui non ci sono più a venire, non ci sono gente che necessariamente deve aspettare, non ci può dire, questa sera andata proviamo questo, e poi domani faremo sapere, questo si può dire in altre serie, ma non ci può dire in un consenso umano, eletto, dalla società, per cui è verbarioso, approviamo dando questo, perché i due sensori che vanno a presentare sono dall'Udc, e dopo di che ce ne andiamo, e saperemo noi il tipo di tavolo di gioco, è il tipo di gioco che vogliamo fare, questo non si può consentire a un Consiglio Comunale, sempre, qual è questo, a gente che da trent'anni si presenta in questo Consiglio Comunale, che non ha mai sentito a dire di queste cose che sono di una verità eccezionale, che se parla dei vostri partiti, può decidere, ma non potete condizionare il Consiglio Comunale, tanto di questo, perché è così, e dopo poi non c'è niente da parlare, queste due atti si contano dal punto di vista, di questo Consiglio Comunale, così come sono conciliati al Consiglio Comunale, quando dice, noi non possiamo più continuare, avvariando il piano di innovatore, non possiamo più continuare ad impacchettare il progetto, perché è convenuto così, e continuiamo a fare. Allora, se vogliamo cambiare il registro, cambiamolo pure, però la collaborazione significa una grande scoperta. Allora, questa sera si è acquistata la proposta più seria e più salta, quella che poteva poter dire da tutti i cittadini, quale partito che ha una protezione, 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 c'è quello che dire, siamo qua, parliamo di una situazione che dobbiamo poter dire nel nostro partito, vendiamo l'argomento a domani sera, a domani sera, ma no, che dobbiamo protezionare la protezione che mettete, e noi l'abbiamo approvato, io sono d'accordo ai due progetti, ma non sono d'accordo così come viene impostato da domani e da questo Consiglio Popolare, sia chiaro, possiamo approvarlo, ve lo ripeto, anche domani sera, dopo domani sera, a parte il fatto che non penso su tutte queste scadenze, perché la lettera che lei, assessore Gentile, l'avrà, la lettera, la firma dell'ufficio, dice che, state attenti che scade il 31 di agosto, e l'hanno detto, esattamente il 28 di aprile del comune dell'ufficio, dove siete stati tutti questi mesi? A fare quello che oggi si scopre, a fare carte, a pensare di dire qual è la pratica monetaria, qual è questo, qual è quell'altro, il 28 di aprile dell'ufficio, dove si dice chiaramente, state attenti che scade il 31 di agosto, e che venite abbacchettati qua, perché ancora questo Consiglio Popolare si individe, perché dice, la maggioranza, chi ha approvato, e l'alloranza, che cosa ha approvato? Chi ha stabilito la pubblicazione? Qual è la relazione e le condizioni vizzi, distrizzi, per cui si è scelta per l'anno? Può essere anche, possiamo accettare l'anno, ma è l'impostazione che è questo. Non è possibile, a continuare sempre, a variante, al piano regalatore, solo perché dobbiamo accontentare la Yoko La. Non è così, in termini di piano. Allora, o l'aspettiamo, oppure, a giuro, continuo a fare proprio un momento, che non è mai mancato, a parte dell'opposizione, dell'alloranza, di dare contributi, ma. No, però è fuori. Finiamo. Allora, io credo che, su questo, dobbiamo riflettere sempre.